Totalità infinito è l'opera più importante del filosofo francese contemporaneo Emmanuel Levinas. In questo volume Levinas sostiene che la filosofia occidentale ha spesso soffocato ogni alterità e trascendenza. Nell'opera vi è in primo luogo la critica della nozione di essere, considerata come categoria dominante all'interno della filosofia occidentale. Essere che egli definisce con il termine di totalità perché esso non concede spazio all'Io come singolo. Vi è poi l'accento posto da un lato sulla necessità che l'Io si separi dall'essere, trovando un proprio spazio dall'altro sul fatto che la relazione che si stabilisce tra l'Io e l'altro è una relazione che si configura. Da prima in senso erogico e in secondo momento in senso etico. I filosofi precedenti sono colpevoli di non aver riconosciuto altra verità fuori di sé, configurandosi come una flagogitazione dell'altro e come una prevaricazione dell'essere nei confronti degli enti. L'ontologia fino ad arrivare ad Heidegger si configura, secondo il filosofo, come una filosofia della potenza che porta inevitabilmente al dominio e non alla sopraffazione del prossimo. Infatti alla violenza teorica dell'approccio ontologico corrisponde sul piano pratico la violenza dell'uomo e l'intolleranza verso il diverso. L'Evinasso osserva che il pensiero dell'Occidente è un pensiero che ha fatto coincidere la verità con la constatazione di ciò che è nel campo dell'essere. Si tratta di opporre a tale visione, incentrata sull'essere, la pura espressività, il linguaggio, il volto. La sfera dell'eticità, dell'infinito e dell'alto si tratta quindi di rompere con la totalità e il totalitarismo. Nella storia del pensiero, purtroppo, secondo il filosofo francese, ben poche volte vi sono state delle voci di protesta contro tutto questo. Una di queste è di Franz Rosenberg. Che cosa fare? Passare dall'essere all'esistente, dall'essere all'esserci. E questo può realizzarsi nell'incontro concreto con l'alto, che si manifesta almeno il volto. Chiamiamo volto il modo in cui mi si presenta l'altro. Il volto si sottrae al possesso, al mio potere. Il volto mi palla e mi invita ad una relazione. I volti sono moltiplici e dunque l'essere è per natura molteplice, non uno né identico. Così si supera la monoliticità dell'essere, per me in idea. E in questo modo si entra nell'etica, che per Levinas diventa la parte più importante della filosofia. Anzi è la stessa filosofia, è la filosofia prima. Dunque in quest'opera viene esposto un pensare che vuole difendere sia l'io come persona, sia la socialità fondata sull'affettività erotico-morale. E anche la trascendenza in senso filosofico e in senso religioso. Trascendare Grazie a tutti